Musica Sabato 25 maggio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Partiamo con Isernia perché ieri sera si è chiusa ufficialmente la campagna elettorale con i tre appuntamenti per ognuno dei candidati alla carica di sindaco ma sentiamo il resoconto degli incontri di Caranci da Pollonio e Brasello nel servizio di Enzo Di Gaetano. Serena e tranquilla, a dispetto delle polemiche sui programmi copiati, la chiusura della campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Isernia. Il primo a chiudere con un comizio in piazza Celestino V, cuore del capoluogo Pentro, è stato Celeste Caranci, candidato sindaco di Isernia bene comune la sinistra che all'inizio del suo intervento si è commosso ricordando la figura di Don Gallo, il prete degli ultimi, scomparso a Genova. Caranci ha parlato della necessità di rinnovare del tutto la politica cittadina abbandonando la parentela incestuosa tra destra e finta sinistra. Poco dopo è stata la volta di Luigi Brasiello, candidato sindaco del centro-sinistra che ha chiuso la sua campagna in piazza 10 settembre. Brasiello ha confermato la linea guida della sua strategia improntata alle analogie con quanto accaduto alla regione dove il tradizionale centro-sinistra, allargato alle forze moderate di centro e ai rappresentanti della società civile, ha avuto la meglio sul centro-destra. E Brasiello ha confermato la volontà di rendere Isernia sempre più sintonizzata sulla lunghezza d'onda dell'attuale governo regionale. L'ultimo a chiudere è stato Giacomo D'Apollonio, candidato sindaco del centro-destra che ha concluso il suo tour elettorale all'Hotel Europa, tradizionale e scaramantico luogo di raduno dei moderati sernini che si sono raccolti intorno all'ex generale della finanza. L'uomo che vuole incarnare la figura di una persona tutta di un pezzo, onesta e trasparente, alla guida di Palazzo San Francesco. Così tra applausi, musica e brindisi di chiusura si è conclusa una campagna elettorale che a Isernia prima è stata silente e quasi timorosa di manifestarsi. Poi, nelle ultime ore, con le accuse e le polemiche sui programmi copiati si è animata notevolmente, ma rispetto ad altri anni e altri tempi c'è da dire che questa volta Isernia ha dato tutta l'impressione di assistere indifferente e diffidente alle manifestazioni elettorali. Pesa la crisi e pesa tanto anche il distacco tra la politica e la gente comune. Continuiamo con la politica. Si inasprisce il dibattito sulla nomina del quinto assessore dell'aggiunta targata frattura. Martedì il Consiglio regionale abrogherà la legge che fissa quattro i componenti dell'esecutivo e subito dopo arriverà la nomina di Vincenzo Cotugno. Ma il capogruppo del PD, Francesco Totaro, frena. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Continua il dibattito dentro e fuori i palazzi della politica sulla nomina del quinto assessore regionale. Nei giorni scorsi il presidente Paolo Frattura aveva sottolineato che la sua squadra deve essere rafforzata con l'ingresso in giunta di Vincenzo Cotugno, primo eletto del centro-sinistra con rialza di Molise e che l'operazione si farà a costo zero. Nonostante le precisazioni del presidente però, le minoranze, centro-destra, Movimento 5 Stelle e Costruire Democrazia hanno preannunciato la loro netta contrarietà e si preparano ad impugnare per vie legali e politiche la nomina del quinto assessore. Qualche mal di pancia si è registrato anche nella maggioranza e il capogruppo del PD, Francesco Totaro, non ha nascosto la sua contrarietà. Lei però continua a essere contrario alla nomina del quinto assessore. Io sì, sulla nomina del quinto assessore ho una posizione diversa, una posizione diversa perché ritengo che quella è una scelta politica, prettamente politica, e credo che su questi partiti politici debbano esprimersi. in primis il mio partito, il quale voglio ricordare a me stesso che non più di sei mesi fa ha fatto una scelta diversa da quella che oggi si vorrebbe mettere in campo e cioè quella di quattro assessori e venti consiglieri regionali. E poi, accanto a questo, se apriamo un dibattito politico serio sui temi della riduzione dei costi della politica che anch'essi credo debbono essere risolti nel giro di 30-35 giorni, non oltre, su quello insomma possiamo aprire un dibattito anche sulla possibilità o meno di aprire al quinto assessore. Comunque, martedì prossimo il Consiglio regionale abrocherà la legge numero 21 del 2012 che impedisce l'allargamento della Giunta e nei giorni successivi, subito dopo la promulgazione della nuova norma sul bollettino ufficiale della Regione, forse il 2 giugno, Frattura firmerà il decreto di nomina per Vincenzo Cotugno. Ed è tutto per l'informazione, passiamo alla rassegna stampa. Sanità, il Consiglio dei Ministri sblocca 63 milioni di euro per il Molise, arriva da Roma una notizia tanto inaspettata quanto positiva, scrive Giovanni Di Tota, il Consiglio dei Ministri ha sbloccato 2 miliardi di euro in favore delle regioni alle prese col deficit sanità, stanziati per il Molise 63 milioni di euro, Paolo Frattura lo ha saputo mentre partecipava a Bari ad un forum sulla linea ferroviaria adriatica. Continuiamo con le altre notizie. Isernia, chiusi i comizi, attesa spasmodica per il voto, Regione, Università e Partito, il dialogo istituzionale, rilancio dell'economia molisana, la ricetta di Cristiano Di Pietro. Lasciamo il giornale del Molise.it, vediamo primo piano Molise, un anno dopo Isernia torna al voto, in corsa per la fascia tricolore tre candidati, da Pollonio, Brasiello e Caranci. Ieri gli ultimi appelli, oggi pausa di riflessione, domani e lunedì seggi aperti in 14 comuni. Salute d'intorni, il fondo sanitario arrivano 63 milioni, approvata la delibera del Consiglio dei Ministri, che ratifica l'ok del tavolo massicci, intanto cambia la distribuzione dell'ossigeno e i farmacisti minacciano lo sciopero. Isernia, Monsignor Gemma, alla Zanzara, i politici sono maleficati. Regione, la fintecna pignora per 250 mila euro la sede di Via Nomentana, ma nessuno sa il perché. Isernia, Maxi Multa, un caseificio, spacciava per prodotti molestani le mozzarella lavorate con latte tedesco. Ex Solagrital Iorio, rivela i russi pronti a comprare. Campobasso cartellone del Corpus Domini, 40 eventi in sette giorni, presentate le manifestazioni che si concluderanno domenica 2 giugno con la sfilata dei misteri e il concerto di Giù di Tonno. Lo Sport Lega Pro Campobasso di Palma in città fino a martedì. Eccellenza Fornelli, la gara di domani con il Torre Cuso spostata a Isernia, motivi di ordine pubblico. Il quotidiano del Molise, sanità, frattura in cassa 63 milioni, arrivano le liquidità annunciate dal governatore, promosso al tavolo massicci. Il Presidente dice ora attendiamo i 55 milioni, ma con questi inizieremo a pagare i creditori della Regione. Comizi, slogan e proclami chiusa la campagna elettorale, domani si vota per scegliere sindaci e consiglieri in 14 comuni molisani. Ancora politica, Gamma Iorio, la Giunta dimentica la proposta russa e a Isernia abusi sessuali tra minori rivelazioni, shock. Abuso edilizio da 30 anni aspetta un epilogo giudiziario. Campobasso, città sicura, interventi urgenti. E sempre a Campobasso si alza il sipario sul corpus domini, resi noti tutti gli eventi in programma. Per lo sport, eccellenza, cresce l'attesa per la sfida tra Fornelli e Torrecuso, promozione, ritorno, play-out a Toro, arriva il vinchiaturo. I fatti del nuovo Molise, Gamma, la profezia di Iorio. L'ex governatore denuncia questo modo di gestire il problema ucciderà la filiera avicola della nostra regione. Quattro mie proposte non sono state considerate. Campobasso, corpus domini, ricco cartellone di eventi. Venafro, lavoratori carsici, alla disperazione, a diserne, allarme bomba evacuata alla sede di esattorie S.P.A., porto cannone, gli olivi secolari, testimoni del territorio molisano. Il tempo, Isernia no, alle antenne a due passi dall'asilo, i giudici, il comune non può superare le norme statali. Dopo sette anni, il TAR raccoglie il ricorso contro comune, regione e telecom. Poi il governo ha sbloccato 63 milioni per gli ospedali. Ancora salva la transiberiana d'Italia, concertazione con l'Abruzzo per potenziare la dorsale appenninica. RFI assicura del futuro della tratta si riparlerà a dicembre del prossimo anno. Poi a diserne, allarme bomba a esattorie. A Campobasso, quelle macchine volanti nel giorno del Corpus Domini, una tradizione che risale al 1740 e richiama migliaia di turisti. Vediamo ora il sannio quotidiano, la copertina del Molise. Ex lavoratori sull'Agrital nasce il Comitato. Alta l'attenzione alla neonata organizzazione, mentre Iorio parla di quattro proposte di privatizzazione. In 30 chiedono l'applicazione degli stessi criteri per la cassa integrazione. Furti e disordini in città, chiesto un tavolo di emergenza. Siamo a Campobasso e ancora a Campobasso Corpus Domini presentato il cartellone dell'evento. Cultura popolare, giovani artisti sono le parole chiave di tutte le idee in programma. Un programma sobrio comunque, come ha precisato il consigliere comunale Stefano Ramondo. E poi a Palazzo Moffa è stato approvato il rapporto annuale 2012 del POR, ieri mattina riunione del Comitato di Sorveglianza. Ad Isernia da Pollonio le proposte sono farina del nostro sacco e il candidato sindaco commenta le accuse del centro-sinistra e il sindaco di Camaiore risponde dalla Toscana pronti al gemellaggio con Isernia. Lasciamo la stampa regionale, passiamo a quella nazionale, vediamo come apre il Corriere della Sera. Letta, basta soldi ai partiti, i cittadini potranno destinare l'uno per mille. Colloquio con il Premier che dice non torneremo alle urne con il Porcellum o con una sua brutta copia. Vediamo qui terrore a Kabul, attacco dei talebani, ferita gravemente una funzionaria italiana. prima un'esplosione e poi un assalto armato ad una sede dell'ONU che si occupa di rifugiati. E ancora, non fate morire l'Aquila, lettera appello del sindaco, finiti i fondi per la ricostruzione e poi noi ostagi di un altro autunno, temperature rigide, nubi fragili al nord, per neve si ferma anche il giro d'Italia. Continuiamo, vediamo l'apertura della Gazzetta del mezzogiorno. Treni veloci, più, treni più veloci si può, regioni d'accordo, subito l'alta capacità sull'Adriatico, Moretti e Sciarrone, lo Stato faccia la sua parte. Poi ancora, il tesoro deriva va sotto sequestro, vale 8,1 miliardi, il GIP di Taranto, frutto delle risorse non utilizzate per la bonifica dell'ILBA. Continuiamo con la stampa nazionale, vediamo come apre il tempo. Battaglia finale per il futuro di Roma, chiusa la campagna per il Campidoglio, intervista da Alemanno che dice con me usciremo dalla crisi, parla Marino, 5 anni di rivoluzione. E poi la scommessa sui rimborsi ai partiti, addio ai finanziamenti, il Consiglio dei Ministri approva le linee guida del testo, l'annuncio di Letta, abbiamo trovato l'intesa, grillo scettico sul disegno di legge. L'apertura del mattino, piano per il lavoro o addio ripresa, Giovannini, decreto entro giugno, Caldoro, De Magistris e Vendola, troppi vincoli di spesa. Il convegno al mattino sul futuro del mezzogiorno e il titolare del welfare Albert basta con l'assistenza indefinita. L'apertura dell'unità da Roma la sfida delle città piazze difficili nel giorno dei comizi Epifani con Marino a San Giovanni dice si può cambiare. Finanziamento ai partiti si cambia, stop ai fondi pubblici, Letta presenta la nuova legge, soldi dai privati e dai cittadini più trasparenza. l'apertura ora di avvenire il segno del terrore attacco dei talebani a Kabul grave una funzionaria italiana e a Londra raffica di allarmi allarme sul volo diretto a Manchester si alzano i caccia e lo scortano a terra si temono emulatori degli assassini del soldato capitale inglese blindata. L'apertura di Libero si alzano lo stipendio e ci aumentano le tasse il braccio destro di Letta vuole dare 1200 euro in più ai parlamentari e il governo studia un'imposta sui redditi sopra i 60 mila euro lordi e Pisa Pia stanga tutti i milanesi con l'IRPEF buttati altri 21 milioni dice Libero Palermo ai tram ma non le rotaie. Continuiamo vediamo ora come apre il manifesto non fa la stupida in titola dopo le larghe intese soffia il vento del disincanto sulle elezioni per il sindaco di Roma nella capitale piazze storiche semivuote per i comizi finali poche idee con l'incubo ballottaggio tra due settimane una fredda primavera gela anche la politica nelle città con l'incognita grillo e le liste civiche di sinistra. Passiamo ai cartacei la Repubblica soldi ai partiti stop entro luglio letta altrimenti farò un decreto Roma alle urne con le piazze vuote accordo nel Consiglio dei Ministri sul blocco al finanziamento pubblico nei prossimi giorni il DDL grillo e solo una presa in giro Kabul attacco talebano all'ONU gravissima una funzionaria italiana battaglia nella capitale afghana poi mega sequestro da 8 miliardi ai Riva lo scandalo ILBA è il doppio dell'IMU la stampa partiti stop ai soldi pubblici il piano prevede entro il 2016 il finanziamento privato attraverso donazioni e uno per mille letta avverte gli alleati semi bloccate faccio un decreto e grillo risponde una presa in giro l'inverno a maggio giro chiuso per neve maltempo mai così freddo in questo periodo al nord pioggia nevicate gelate sopra gli 800 metri il giornale dal PD al PDL chi paga i partiti tutti i finanziatori che hanno versato 45 milioni ai politici il governo promette di tagliare i rimborsi ma quando Berlusconi blindaletta ma ora serve un decreto shock Di Luca infanga il ciclismo dopato per perdere tragico media al giro il sole 24 ore IMU due vie per l'acconto rinviata la proroga degli esgravi fiscali sui lavori nelle abitazioni istruzioni dal dipartimento delle finanze su regole e eccezioni per il pagamento poi ILVA sequestrati beni per 8 miliardi esclusi dal lato stabilimenti impianti e macchinari oggi il board della società la procura di Taranto blocca azioni e patrimoni deriva per garantire la bonifica delle aree inquinate e infine la gazzetta dello sport svolta nerazzurra mazzarri l'inter è tua stramaccioni esonerato con una telefonata di branca al tecnico contratto biennale Moratti scelto con attenzione con lui parleremo di mercato e non vendo la società il primo obiettivo è Isla Berlusconi cena con Max Allegri invitato lunedì ad Arcore così Galliani prepara la pace poi il giro il giorno del bufere freddo e neve tappa annullata di Luca ci ricasca positivo all'epo e con la gazzetta dello sport si conclude il nostro appuntamento mattutino l'informazione di Telemolisse torna alle 14 buona giornata di Telemolisse